21 gennaio 1849 Si svolgono in tutto lo Stato Pontificio le elezioni per l'Assemblea Costituente che avrebbe proclamato la Repubblica Romana. Papa Pio IX, il primo gennaio dello stesso anno, aveva condannato apertamente la convocazione dell'Assemblea, minacciando la scomunica sia per coloro che avevano emanato il provvedimento, sia per quelli che avessero partecipato alla consultazione elettorale. Grazie per la visione!